Siamo in tema natalizio, qual è la cosa più bella secondo lei ad Agropoli? Qui ad Agropoli c'è un clima natalizio che è eccezionale, infatti proprio stamattina sono arrivati un sacco di persone, due o tre pullman che provenivano dei bambini, che andavano sul castello per vedere il castello e la casa di Babbo Natale. Ed è bellissimo, è uno dei luoghi più belli che c'è stato. Ho visto un'organizzazione che è favolosa qui, c'è un'atmosfera un pochettino più cordiale, sembra veramente natale, a me piace moltissimo. Io poi sono innamorato, sono vero agropolista. Parlando in generale, cosa possiamo cambiare ad Agropoli in meglio? Ci vuole un'organizzazione turistica, secondo me migliore, perché non abbiamo, non siamo riusciti ancora ad avere un'espressione eccezionale per quanto riguarda il turismo, perché ho visto in altri posti che si comincia a fare turismo già dall'inverno, eccetera. Quindi secondo me ci vuole più, anche come operatori, operatori turisti, come comune, come tutto, ci vuole qualcosa in più per dare un tocco di classe, perché merita Agropoli. Io dico che Agropoli è una cittadina che offre tanto tutto l'anno. A Natale diciamo che le decorazioni, le luci rendono un'atmosfera ancora più godibile per i turisti. Fondamentalmente però ritengo che l'offerta turistica della cittadina non vada limitata a dicembre, ma tutto l'anno. Quindi parlando in generale, cosa cambierebbe di Agropoli meglio? Devo dire che Agropoli fondamentalmente non è che va cambiata. Agropoli ha bisogno, secondo me, di una manutenzione ordinaria e di una pulizia delle strade maggiore fondamentalmente, perché abbiamo la fortuna di abitare in una località abbasciata dalla fortuna. Il Natale ad Agropoli è qualcosa che comunque si sta sviluppando da qualche anno a questa parte, anzi negli ultimi dieci anni. I segnali ci sono per un coinvolgimento che molti fraintendono. Il coinvolgimento che intendiamo nel vero senso della parola deve venire dalla base, non dall'alto in effetti. Quello a cui stiamo assistendo è un'organizzazione rispetto all'anno scorso più coinvolgente per il centro, perché sono stati spostati i cosiddetti mercatini anche con un po' di ritardo rispetto agli altri paesi limitrofi al centro. Il Natale, secondo il mio modestissimo parere, deve fare da puntaspilli come centrale per altre iniziative che potrebbero essere sviluppate però negli anni, senza restare a livello embrionale e partire da zero ogni anno in effetti. Uno sviluppo organico con una tradizione e con una situazione diciamo stabile, che debba essere perpetrata negli anni e portata avanti, qualsiasi essa sia l'iniziativa che può essere sia di tipo presepiale oppure di altre manifestazioni, perché pare che si ricominci ogni anno da capo con queste situazioni senza creare una linea di continuità per quanto riguarda questa cosa. Auguro a tutti un bel Natale per davvero.